Musica Salve a tutti ragazzi, bentornati qui in iFanBug questo è il continuo della serie appunto di DuckTales siamo rimasti fermi per alcuni giorni e per alcuni caricamenti perché abbiamo avuto da fare con quello che vedete qui sopra scritto il MimeFanBug e appunto siamo di ritorno e continuiamo la serie insieme c'è Paperone dei Paperoni che ci aspetta con DuckTales Remastered e secondo un consiglio di uno dei nostri iscritti andremo ad esplorare la luna consigliato da voi eh PaperGyver's Alunna si, certamente molto lontana ragazzi il formaggio verde della longevità un po' strano questa cosa però si è buttato ma che era? no, era un minigioco non me ne so accorto su un nabbo su un nabbo una cifra quello era un minigioco che mi dava un sacco di soldi del gioco ma guarda chi c'è sta il tonto di Fenton questo è quello che si trasforma in robo pap mi sembra robo d'acca e ossimo questo inventava le cose stranissime dai la caramella al sapore di ossigeno pensato non lo vede ecco credi a mamma credi a mamma una navicella sembra sembra il fondo di quella di Terraria anzi di Starbound se so frega di coso per forza si infatti l'unica robo pappa pasticcere di un contabile e intanto con robo pappa fate peggio è in grande allora eccoci qui sulla luna per ESC e per visualizzare la mappa nemmeno e vabbè questo già lo sappiamo ti è boom no di show boom uccidiamoli tutti oh la M arrivare là sopra non è difficilissimo però vieni qui olè grazie molto gentile lei boom c'è un altro? via non mi interessi che succede? perché trema? un altro è tornata alla navetta me sa si ma si è pure appoggiata mi sta proprio invitando a nozze si invito a bordo andiamo va allora io direi prima di uah ma hai detto troviamo qualcosa da mangiare niente ci sarà qualcosa oh chiede questo ok qui presumo che devo fare questo tutto cibo e ricoveriamo i cuori torno aia che figo recupero il cuore e muoio aspetta giù porto da qualche parte forse non penso sarà per uscire no invece si mi fa uscire chi è appoggiata questo ciao e vabbè quindi da quel lato si esce andiamo di qua aia mori scusate se devo sentire qualche voce non è colpa mia oh sono caduto sono caduto devo risalire risaliamo andiamo su non ci arrivo lì volevo vedere se c'era qualcosa oh l'elmo ecco me l'apri allora no così non si apre sicuramente ci sarà qualcosa di più difficile adesso andiamo a vedere cosa allora vieni qua e aggrappati allora aia vuole soldini fanno sempre comodo ci sarà qualcosa dentro uno di questi massimi no niente liberiamola si in esercito di Fenton e beh no ne l'ha fatta sembra stupido allora no è stupido ecco qua guarda i topi fantastici si mi riaggiusti ci vengono sì tanto per cambiare si nuota che figo no questo pure da cosa è no ok andiamo a prendere la mia tuta allora possiamo andare a recuperare la tuta presa in volo ok una l'abbiamo presa si si diventa più in gamba mancano soltanto due pezzi eh non mi bisogna andare avanti e un altro e un altro piede questo vediamo un po' se prende quella devo riprendere i generali gli altri non quello però così si si questo così recuperiamo un po' di vita ops muori maia valido no ma canto rosico oh e questi soldi per noi soldi per noi andiamo insomma allora qui e vai andiamo un po' no se riesci tiè tiè no non ci sono salito qui c'è qualcosa allora uno e due cibo che per adesso non ci serviva ok ah e qua di meno non c'è niente ok andiamo saliamo ancora su oh ammazza preso poliviscati eh no cazzo lo prendo e me lo toglie tiè maia mi ha fatto ciocca andiamo su e questa lol no no metal cibo mi sembra te eh gli ho dato a mangiare si infatti lei stava dappertutto e era quella che non si sa come faceva a starci visto che tutti stavano un pericolo lei no oh oh allora qua ci si andava solo per quello quindi si sale di più qua mi dice che è la parte che andrà avanti però non so c'è un pezzo probabilmente sicuro vediamo un po' oh mio dio sta diventando bravo questa è la ruota nella parte sotto cosa mi manca il busto si infatti poteva farci le gambe no ho fatto la ruota però effettivamente è più veloce quando si muove anche se è all'inizio quando nel cartone l'ha usata non ci riuscivamo e se vabbè allora devo scendere e scendere ancora e di qua c'era quello beh devo andare di là devo andare in giù mi manca una parte sola da visionare forse proprio qua come sembra che non ci sono andato maia faccia sulle palle guarda tu lo provo lì devi andare a mettere tu aio aia ma muoio allora rampiamo qui scusare facebook mi sono dimentico ad accedere su facebook no mi sono fatto ammazzare vabbè allora qui sicuramente c'è qualcosa di comodo allora vediamo un po' qui dove mi porta e a cosa mi porta mi fa salire questo è un posto diverso eccola viene dorato anche il busto è una buona cosa che Jairo ha legato questo hyperspace for me per portare le cose merghe per tutte le tue parti posso tornare a casa eh si ora poi vi va già dai correre 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 nia pedu in modo dobbiamo scendere a manetta no giù eh vabbè però so io oh dai ole scusate del rumore questo era il cellulare ve li sto a far sentire o ti rumori oggi oh mi sono salvato in calcio da angolo andiamo con lo zonpo no come ho fatto piede questo mandiamo la navicella gli portiamo l'armatura sento un archimede credo di aver lasciato la mia banconota da due dollari preferita sotto il sedile che c'entra con tutta sta storia come se fosse una cosa così esagerata cosa sensata no la parola ci ha detto che è stupido pure lui qual'è la parola segreta io non me la ricordo ah pensa tu ero fanfarone sono così ah è vero non lo ricordo per farglielo ricordare visto che era una frase che diceva spesso di volte la mente pure per sbaglio che non mi segue ecco l'ho trovata davvero da due milioni di dollari ma dai va rimettere sotto il sedile si è stupido è stupido davvero che figo gli spara 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 comoda sta cosa si spara i nostri nemici ma chi gli fa fare il giro più corto però così in 10 secondi me lo fermiamo se neanche non gli spari oh è cascato morì oh me l'avevo dimenticato quel diamantino ammazzalo vole ciao andiamo te sei premato lì su ah sarà sdoppiato qualcosa vabbè andiamo avanti le corsa ho capito che c'è dai una mano ma sei lento una cifra spara il formaggio verde chissà com'è sei la miseria mutande roll che stile oh mio dio una banda bassotti quanti chiede fame d'oro miglore si ama così ebbè glielo ha dissi il trago ecco qua ha lasciato da su dai andiamo mi dovrebbero mettere un altro attacco soldi oh altri meglio esplorare sempre tutto se sa mai ci fosse un altro diamantino aia oh preso uno ok no aspettate risalgo e riscendo speriamo che non sparisce no è sparito no odio e vabbè abbiamo perso un diamantino qualcosa che ci poteva essere dentro perfetto qui non abbiamo visto però ok non c'è lento al volo e rompi oh e dai ok ok dai che dovrebbe essere quasi finita è tornata una cifra questo devo dire che quel coso lì potenziato serve a poco con i punti dove l'hanno messo scusate il telefono aia oh che ho trovato lì sopra te mi ci manda mi ci manda qui c'è sta due tre e quattro lol mi ha aggiunto un mi ha aggiunto un cuoriceno e questo è comodo ok qui mi sa che c'è qualcosa uo soldi vediamo aia non mi ha messo il pogo che è questa cosa qui è difficile da fare non so perché l'hanno fatta in questa maniera che c'è un po' di ritardo delle volte oppure a seconda di dove rimbalza non colpisce bene vai riempiamo tutto non so semmai cibo vedi che ora non ho rimbalzato per esempio perché stavo sullo spigolo ok formaggio verde aia oddio si è trasformato con il formaggio verde no quello è potente quel cosa oddio infatti ha fatto crescere subito oh preso che fa sto cosa a parte corre oh ah salta pure sopra ok pensavo di no oh che cacchio ha fatto è verde aia ragazzo ok c'entra no è tornato normale normale è per modo di dire cioè non è normale questo dai ti prendo ti prendo oh di nuovo verde a parte sono d'altoni quindi non so neanche aia fuga no ma ha preso il volo no ah ma era un castrato starò fortunato che ancora hanno fatto rigenerazione fuga fuga mi sa che è potente sto coso fregato 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 no ma ha preso al volo cazzarola cazzarola oh preso preso no oh ma lisciato una cifra vai verde giallo rosso quello che cos'è no è giallo verde non lo so mi sa che verde perchè il formaggio è quello verde salte da un piccolo no ma ha preso ripasso con cuore oh fregate ma rifregate oh preso uff faticosa 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 oh formaggio verde mazzale guarda la puzza c'è l'alone di puzza intorno a quel formaggio livello completato ragazzi adesso vediamo un po' che ci dice allora vediamo un po' quanti soldi mi ha fatto lì sotto dice abbiamo guadagnato 4.472.400 e un milione c'è stato dato per l'ottenimento del formaggio verde e diamantini uguale 6 milioni in totale ottimo guadagno ragazzi c'è un po' che dicono? puzza sicuro per lui ecco appunto quale sarà il prossimo ditemelo sotto nei commenti e probabilmente se non l'ho ancora registrato farò proprio quello grazie di avermi seguito ricordate di fare una passata se vi va dentro un minefabag non è obbligatorio e continuate a seguire la serie ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti